Sì, alla riapertura tanto attesa anche dei negozi da lunedì 18 maggio, pronti partenza via, ma quanto pronti sono i negozianti? Siamo andati da Nico Abbigliamento che grazie all'e-commerce il gruppo è riuscito a sopravvivere. Il fatto di aprire per noi il reparto bambino ci è servito per mettere in pratica tutta la normativa vigente adesso. Quindi abbiamo nell'entrata, cerchiamo di misurare la temperatura ai nostri clienti, se lo desiderano, mettiamo a disposizione guanti e mascherine per un'entrata in tutta sicurezza nei nostri punti vendita. Ma poi sarà possibile provarsi le calzature, l'abbigliamento? Allora, assolutamente sì, anche perché giustamente uno se le vuole anche vedere indossate. Poi provvederemo a sanificare una parte di prodotto, anche se la normativa questo non lo prevede. Comunque da parte nostra ci siamo attrezzati con un nebulizzatore. Quando il cliente prova la merce verrà messa in uno stand e poi nebulizzata per rimetterla in vendita per i prossimi clienti che arriveranno. Ci siamo spostati, abbiamo sentito il titolare di Dinosauro Abbigliamento. Perché abbiamo un reparto, logicamente, dei bambini da 0 a 16 anni e apri però su 1.500 metri non è conveniente ma è rispetto per la clientela. Avevano già stabilito ancora ad aprile che si apriva il 18 che si pensava poi di aprire l'11 e addirittura il 4. Addirittura noi siamo stati proprio, sì, un po' abbandonati perché nessuno, non abbiamo un rappresentante importante come può essere quando sono aperte le cop, la parte di là dove chi comanda, l'importante era che fossero però mi dica la differenza tra un negozio di abbigliamento e un supermercato. E noi si poteva tranquillamente tenere aperto come i supermercati alimentari. Stare tre mesi senza incassi è una cosa enorme e soprattutto non abbiamo visto ancora niente.